E' necessario un dialogo costante tra magistratura, avvocatura e mondo politico. Se ne è discusso nel Teatro Piccini di Bari nel corso dell'ultima giornata del 27esimo congresso Aiga, al quale hanno preso parte Margherita Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione, e Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. La ripresa della fondamentalità del diritto di difesa mi sembra che debba essere uno dei temi di cui oggi dobbiamo continuare a discutere in sinergia, cioè in pace con la magistratura, in pace con la politica e in pace con l'Accademia. Un paese che ha bisogno di dimenticare le brutte lotte per il potere giudiziario, politica contro il potere giudiziario, magistrati contro avvocati. Dobbiamo fare in modo che la pace possa regnare anche nel mondo della giustizia. A mio avviso una delle maggiori criticità è la mancanza di stabilità del quadro normativo di riferimento, perché se le leggi si susseguono in un breve arco di tempo non abbiamo la possibilità di organizzare adeguatamente gli uffici, perché l'organizzazione deve dare di volta in volta attuazione alle singole regole vigenti e nello stesso tempo muta continuamente il complesso delle nostre decisioni e questo disorienta i cittadini. Soddisfazione da parte del viceministro Sisto su quanto detto nelle scorse ore dal ministro Raffaele Fitto sul Parco della Giustizia a Bari, che sta diventando finalmente realtà. Il Parco della Giustizia è per me un fiore all'occhiello, devo dire, fin da quando sono diventato sottosegretario e adesso viceministro, è una delle mie preoccupazioni, come di tutta l'edilizia giudiziaria nazionale, ma dopo la giustizia sotto le tende, con le scarpe sporche di fango per poter difendere i clienti, Bari ha avuto quello che meritava, cioè una grande iniziativa, un grande progetto che fa onore non soltanto alla città della Puglia, ma all'intera giustizia nazionale.